Salve, appassionati tifosi del Milan! Come sempre siamo alla ricerca della perfezione per ottenere buoni risultati, e oggi abbiamo una notizia esclusiva che potrebbe rallegrare molti di voi. Parliamo di Lorenzo Colombo e del suo futuro nel nostro amato club. Nelle ultime settimane il futuro di Colombo è stato circondato dall'incertezza, con molte voci che circolavano sul mercato dei trasferimenti. Ma ora, finalmente, il Milan ha preso una decisione più o meno definitiva sul futuro del giovane attaccante. Come abbiamo riportato in precedenza, Stefano Pioli è molto soddisfatto delle prestazioni di Colombo durante il precampionato. Questo significa che il Milan è propenso a tenerlo in squadra come terzo attaccante. Questa è un'ottima notizia, perché dimostra che la società crede nel potenziale del giocatore e vuole vederlo crescere e svilupparsi, ulteriormente con noi. Inoltre, Lorenzo Colombo è pronto a rinnovare il suo contratto con il Milan. Il suo contratto attuale scade nel 2025, ma stiamo lavorando per farsi che rimanga con noi ancora più a lungo. Questo rinnovo è fondamentale per tutelare gli interessi del Milan e per evitare che la prossima stagione abbia un solo anno in più di contratto, che potrebbe metterci in difficoltà nelle trattative future. Altri club come Atalanta, Cagliari e Genoa hanno mostrato interesse per il nostro giovane attaccante. Ma la nostra intenzione è chiara, vogliamo che Colombo rimanga e che sia una parte importante della nostra squadra nella prossima stagione. È importante sottolineare che la decisione non è ancora definitiva, ma tutto fa pensare che la permanenza di Colombo sia abbastanza probabile. Non vediamo l'ora di vederlo brillare con la maglia del Milan e continuare a mostrare il suo talento in campo. E ora vorremmo sapere cosa ne pensate voi tifosi. Cosa ne pensate della decisione del Milan di tenere Lorenzo Colombo in squadra? Pensate che possa essere un tassello importante nella prossima stagione? Lasciate i vostri commenti qui sotto e non dimenticate di mettere i mi piace a questo video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sul Milan. Continueremo a seguire da vicino tutte le novità della nostra squadra del cuore. Forza Milan e alla prossima!